buongiorno ed eccomi qua oggi sono a Bergamo e voglio parlarvi di disabilità questo pomeriggio sono a Bergamo presso lo spazio autismo adesso entriamo a conoscere il presidente associazione il signor Tino Manzoni siamo qui all'interno dello spazio autismo di Bergamo con il presidente associazione Tino Manzoni buongiorno a tutti vieni Tino raccontaci un po' come è nata questa realtà e che tipo di lavoro fate sul territorio questa realtà ha una storia molto lunga molto faticosa di grandi sacrifici di tenacia e di dedizione il lavoro parte già negli anni 90 grazie alla sensibilità di alcuni insegnanti delle scuole del Proveditorato di Bergamo che poi hanno coinvolto i genitori gli educatori ed è nato tutto questo progetto che ad oggi riguarda 120 ragazzi in età scolare facciamo riferimento alla neuropsichiatria di Bergamo e cerchiamo di dare una risposta concreta a quelle che sono le dinamiche e le difficoltà inerenti all'autismo in questo momento noi siamo all'interno dei laboratori dove i ragazzi appunto creano degli oggetti qui abbiamo Tino delle scatole e tante altissime altre cose il laboratorio è solo una parte di tutte le attività che si fanno ovviamente cerchiamo di comprendere tutto il contesto che riguarda i ragazzi che seguiamo che parte dalla famiglia si riferisce alla scuola e al tempo libero inserimenti anche sul territorio io ad esempio ho visto tantissimi lavori come quelli che hanno esposizione a Stezzano dei ragazzi le persone se vogliono comprare un oggetto un quadro dove possono acquistare allora noi abbiamo un negozio che si chiama il negozio si trova in via Pignolo a Bergamo al numero 9 e lì potete trovare un po' tutte quelle che sono le creazioni dei ragazzi e anche dei volontari che collaborano con noi buongiorno sono Silvia sono una delle direttrici delle orchestre della Nota in Più il progetto musicale dell'associazione spazio autismo di Bergamo siamo all'interno della nostra sala musica questa sala musica è la sala musica delle nostre orchestre sinfonica e il nostro oggetto è rivolto a persone con disabilità di vario gene loro suonano con noi brani sinfonici e nel corso dei tre anni del corso base del corso di preparazione alle orchestre i ragazzi imparano a relazionarsi con tutti gli strumenti acquisendo le capacità base per suonare questi strumenti e per eseguire i brani che noi proponiamo intanto vi mostro quelli che sono alcune dei quadri che abbiamo trovato qui all'interno del centro spazio autismo di Bergamo come sapete come ha detto anche il signor Tino queste attività sono importantissime perché i ragazzi riescono proprio a tirare fuori un qualcosa che loro hanno dentro una passione una dota un qualcosa di innato questi sono alcuni lavori quadri che abbiamo visto presso il centro per vedere altri lavori dei ragazzi dobbiamo andare in centro via Pignolo arriviamo tra pochissimo al negozio dove possiamo trovare i manufatti dei ragazzi dello spazio autismo di Bergamo sono arrivata adesso visitiamo assieme il laboratorio e negozio dello spazio autismo di Bergamo ed ora ci mettiamo i grembiule ed eccoci qua ragazzi siamo con Paolo dello spazio autismo allora stamattina poi cosa facciamo finiamo un alberello di natale che abbiamo realizzato con le famiglie hanno tagliato il legno e noi l'abbiamo dipinto lo stiamo dipingendo con alberto e con davide e marco abbiamo dei dei quadernini in questo negozio di via Pignolo questi quadernini fanno i ragazzi del centro di Valtese del CSE sì del CSE sì perfetto quindi noi troviamo qui non solo i quaderni ma tutto quello che viene fatto nello spazio autismo grazie a tutti grazie a tutti